Cari amici di Quotidiano.net, domani sera la nazionale italiana guidata da Cesare Prandelli torna in campo per una amichevole molto importante. Si gioca all'Olimpico per celebrare i 150 anni dell'unità d'Italia. La partita è Italia-Uruguay. Di fronte due nazionali storiche, più volte ai campioni del mondo, due nazionali che rappresentano la tradizione del calcio. La nazionale di Prandelli scenderà in campo all'Olimpico con una formazione diversa rispetto alla bella partita effettuata e vinta contro la Polonia nell'amichevole di venerdì scorso. Le novità principali riguardano il fronte d'attacco, dove accanto a Balotelli ci sarà Osvaldo. Osvaldo, attaccante della Roma, quest'anno sta convincendo, sta dando il meglio di sé e quindi ha meritato questa chance azzurra in coppia con Balotelli. Formeranno una coppia molto muscolare, molto forte anche sotto il profilo fisico, anche perché l'argentino è in grado anche di puntare molto forte al centro, mentre Balotelli svariando sui lati potrebbe aprirgli dei varchi importanti. Gli altri cambiamenti riguardano invece i ruoli esterni di difesa, in particolare Maggio e Balzaretti, Maggio a destra, Balzaretti a sinistra, prenderanno il posto di Abate che non aveva particolarmente convinto nella gara con la Polonia e di crescito, anche lui leggermente appannato, ma comunque gli avvicendamenti credo fossero decisi in partenza. Confermate invece la coppia centrale composta da Chiellini e Ranocchia, mentre a centrocampo si schiereranno da destra De Rossi, poi Pirlo in mezzo, Marchisio a sinistra con Montolivo rifinitore alle spalle della coppia di punta composta da Balotelli e Osvaldo. Quella con Uruguay è una partita particolarmente difficile perché la Celeste, questo è il soprannome della squadra uruguaiana, viene da un periodo felicissimo, dopo aver vinto la Coppa America stanno dominando anche le qualificazioni al Mondiale del 2014, la cui fase finale si terrà in Brasile. Nell'ultima partita addirittura hanno battuto 4-0 il Cile con un poker di Suarez che domani sarà in attacco insieme a Edison Cavani naturalmente che rappresenta per il Napoli un giocatore faro e piano piano sta guadagnando anche in nazionale un rispetto e una credibilità crescente. Le insidie per l'Italia verranno anche dai rosso-blu Perez che è il faro del centrocampo e naturalmente da Ramirez che dovrebbe giocare e che rappresenta un talento di valore assoluto, lo stanno misurando in questi mesi i tifosi del Bologna ma sicuramente apparirà molto chiaro anche nel match contro l'Italia. Dunque è una partita molto interessante, molto bella da seguire anche perché si iscrive proprio nel festeggiamento dei 150 anni dell'Unità d'Italia. Deve essere una festa del calcio e auguriamoci che lo sia fino in fondo. Grazie.